Mi serve un tesoro, butta il tuo orologio. Sto leggendo. Mi serve un relitto, dai! Butta una sedia. No, non butto nessuna sedia, mi dispiace. Signor Paul, finì. Me ne vai a un paese. Ok, Clara. Un giro dell'isola non te lo fai? Devi vederla, è un posto bellissimo. Non saprei dove andare. C'è un lago, è piuttosto vicino. Ci vanno tanti ragazzi, ci sono chitarre, musica. È bello, dovresti andarci. Portami tu.